M'è venuta un'idea per una canzone film. Stavo pensando a una Powered Ballad su un crossover di proporzioni epiche tra eroi fantastici. Senti, fa freddo stasera perché ho... Oh, mamma! Allora, la storia è ispirata a quella di Davide e Golia. Parla del confronto tra uomo e Dio. Si intitola Il Martello e la Frusta. La storia mai raccontata di Thor contro Indiana Jones. Thor contro Indiana Jones. Ho già la testa piena di immagini strafili. Ok, non è ancora completa, ma stavo pensando a una cosa tipo... Oh, Indy! Oh, Indy! È ora di arrivare al Quindy! Quell'uomo sta volando senza timor! Fermi, non è un uomo, no, è un Dio del Nord! Oh, sì! Mi piace tantissimo! Aspetta! Il tuono scagliò il grande Thor col suo martello Indy replicò che ti petto tostarello È una trofa perfetta! Vero! Che ti petto tostarello mi è venuta così! Va bene, poi c'è il ritornello Thor e il Dr. Jones Thor e il Dr. Jones Si sfidano come i Beatles e i Rolling Stones Thor e il Dr. Jones Thor e il Dr. Jones Si sfidano come i Beatles e i Rolling Stones Bravo, lo spacca di brutto! Ricordi la scena dell'arca dell'alleanza? Si! Le facce degli spettatori si squaglieranno in quel mondo!